allora ciao a tutti e scusatemi ma ho letto praticamente prima di iniziare a parlare a parlare ho letto i commenti e mi ha fatto tanto ridere quella di miss woodhouse norimberti che mi ha chiesto cominci con i titoli clickbait fini effettivamente sì più che altro volevo vedere quanti pettegoli insomma avrebbero partecipato alla live per sapere se io avessi si è pugnato davvero i miei moderatori quindi miss che mi hai mi hai sgamata subito mannaggia mannaggia non si fa così almeno mi si dà il tempo di che so dire due parole qualcosa del genere no ma così ecco ciao francesco e fabio però ragazzi sono venuti i moderatori avete visto sono venuti ciao pettegola allora ciao arthur ciao paola e vabbò ebbene sì però insomma non è detto dai non è detto nel corso della serata insomma potrebbe accadere di tutto quindi vediamo un attimino ciao lucidù vediamo un attimino allora se a copiare kitty non ci ho creduto dall'inizio infatti ma chi chi volete che potesse credere a una cosa del genere mi fanno morire i miei ex moderatori allora ciao annamaria ciao finestra vabbè saluta tutti annamaria buonasera tutti finestra e a tutto il cortile ciao stregolina tesorina allora questa sera ragazzi stiamo con raga questo me lo devo far vedere eccolo qua ciao cicciolino come va hai avuto paura eh per niente neanche per un momento è certo l'altro si mostra già in nudo caro niente tu sei stato così tranquillo allora andy siamo in una fossa di serpenti io ti ho dato tutto anche la pasta al tonno e mesi pure così è vero sì è vero sono cattivissima attenta che se già ti perculiamo da mod figurati cosa potremmo fare sì infatti cioè mi state ricattando preparare il pannocchione sì i grandi me l'anzano in avvicinamento a ore 3 anzi a ore 21 e 33 allora raga eh francesco andy salite belli su che vi devo fare un discorsetto ma quando l'ho letto ho contattato subito francesco ho detto ma guarda sta stronza adesso io la faccio pagare ma tu pensi che veramente se avessi a parte il fatto che non lo farei mai ma ti pare che l'avrei fatto così cioè in live senza parlarvi prima ma dai su dai dai su dai l'hanno capito tutto comunque volevo tranquillizzare tutta la community perché so che l'altra volta per sbaglio sono entrato e ho mostrato parti scabrose del mio corpo volevo tranquillizzare non avevo preso il cialis perciò ero insomma un po' se no normalmente mi funziona eh era un po' giù di tono diciamo così eh sì non avevo preso la pillola eh però insomma quando puoi prendere la pillola sta bene eh sta abbastanza su diciamo ragazzi l'importante è prendere la pillola cosa che evidentemente non fa sempre ecco no allora ciao ciao candi francesco conoscendo fini se me fosse stato vero l'avrebbe fatto in privato non avrebbe mai comunicato così pubblicamente senza risarci ma france ma ti pare che io o voi come moderatori e vi tolgo ma dai ma sarei scema proprio mi fate morire dalle risate allora pensa fabio che io non ho visto niente infatti eh ma Anna Maria guarda io la prima cosa che ho pensato l'altra volta l'ho detto come avrà reagito Anna Maria eh ma tutti quanti ma due volte se l'hai persa tu due volte due volte è salito due volte se l'ho persa ciao rispi e quindi ragazzi però vedete come sta bello rilassato il nostro il nostro fabietto bello allungato sto nel letto proprio come una dea eh sembro Paolina Bonaparte eh bravissimo Paolino 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 poi Biancaneve tutti i sette nani mi sfottono per la T e la T Biancaneve che cazzo devo fare con sta luce qua dietro sembro illuminato da Zeus oh oh ciao Veronica pensa che sfortuna infatti Anna Maria allora io intanto vorrei lanciare un appello a no pose no pose se ci stai ascoltando se ti va di entrare vieni che c'è anche Fabio qui in hangout quindi anche soltanto per un saluto poi magari se non ti senti di stare puoi andare via cioè nessuno te ne impedisce ovviamente però insomma saluto vieni a farcelo dai ehm dice che le occorre del tempo per riprendersi perché si sente un po' giù Fabio eh però io vorrei che quantomeno un un saluto potesse venire a farcelo anche soltanto per dire sto meglio cioè qualcosa così darci un po' parlarci di come sta ecco quindi no pose ci stai ascoltando vieni dai anche solo per un saluto ribadisco non devi rimanere se non ti fa sì eh allora comunque appena posso un caffè ce lo ce lo beviamo Fabio dice Rispi perché Rispi è di Castellammare vero mi ricordo eh non lo so di dove sei Rispi mi pare di sì eh allora mannaggia Anna Maria infatti se lo perde io se riesco a novembre scendo il problema sono i biglietti del treno allora no pose ti saluta Rispi eh eh già ciao grampi ci sei mancato sai ci sei mancato tanto ormai se non ci sei tu sentiamo comunque oh comunque vale per tutti nel senso che appena manca qualcuno che è stabilmente con noi la mancanza si sente eh allora sì sono nata a Castellammare ma abito in provincia di Milano diciamo eh vedi ricordavo sì certo se scendi certo allora no pose vieni qui anche io in questi giorni non sono al top ma qui il morale sale infatti meno male Anna Maria che glielo dici comunque ragazzi io sto con StreamYard quindi eh se volete salire salite così proviamo come va per tutti la la connessione se funziona meglio se funziona meglio la chat perché tante volte il Restream si blocca si blocca la chat eh e quindi vediamo un attimino se funziona così se funziona meglio ecco non possiamo salire più di sei perché non ho l'abbonamento quindi a sei ci stoppiamo però possiamo vedere insomma come come funziona ecco dice Andy lavo i denti e salgo ok Andy lavateli bene bene sti dentini mi raccomando soprattutto quelli canini che in queste cose servono tanto quindi tu come mi senti mi senti bene? eh io? eh sì benissimo eh ok anche io ti percepisco bene forte e chiaro ciao Flo Flo eh anche il come si chiama il video è molto chiaro ehm Anna Maria ti pregherei di salire perché di solito quella che ha problemi nella connessione sei tu così vediamo anche se tu insomma hai problemi anche con StreamYard oddio con sì StreamYard ho detto bene uì allora chi di schine chi di pet tutti quindi tenuti fat sì è vero Sara allora ma tu hai la monetizzazione perché mi è capitato che una live non mi fosse monetizzata come StreamYard sì io ho la monetizzazione e teoricamente dovrebbe essere monetizzata ma poi cioè io ho tante di quelle live privatizzate che quando faccio le live per quanto riguarda la monetizzazione ehm sì nel senso vado a guardare però poi alla fine mi interessa o non mi interessa perché per quello che diciamo per quello che facciamo per come ci comportiamo mi sembra strano che non le restringano tutte devo dirti la verità però insomma ehm finora me l'ha anche con StreamYard con Restream scusa me l'ha sempre monetizzata e quindi non 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 ti so dire ah qui tante cose salgono dice Paola Sara il link allora grazie ma subitissimo Francei tu che stai a combinar? ecco qui no 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 non ti preoccupare ma ci mancherebbe tu chiedimi di solito non me l'ha anche quando li faccio la prima non me l'ha sempre monetizzata rispi sempre anche con StreamYard quindi non ho mai trovato problemi non è che magari nella tua live è stato detto qualcosa di particolare e quindi che te l'hanno ristretta? te l'hanno mandata in restrizione? la live può essere? e comunque c'è scritto vicino o questo sembra il bagno? cioè che cosa si mangia? quanto ci vuole fare un app? no ma l'app dici? che fa? mi pare che ha detto l'app allora ciao Antonella Gualtieri che manda un fiore a no pose no pose ma non mi ha risposto deve essere molto giù sì vabbè però quando una persona sta giù cara no pose io spero veramente che tu mi ascolti ho provato anche a contattarti su Instagram di solito per stare meno giù si sta con gli amici si sta con le persone insomma con cui puoi divertirti con cui puoi parlare Anna Maria mi dice che non hai dispositivi collegati se colleghi dispositivi così ti guardo in cam mentre prima di farti salire mi faresti in piacere se no qua ci ritroviamo ancora una volta con la pannocchia e dicevo no pose di solito quando si sta giù insomma si deve stare con gli amici quindi dai che ti aspettiamo allora finestra strano che non ti vanno in restrizione i video con quelle facce che metti infatti strano per esempio questa sera può essere che con il fatto che qualcuno si accrezzava insomma può essere che il video mi vada in restrizione ah eccola qua è Anna Maria ok ciao Anna Maria ciao a tutti che casino che casino perché ho toccato i tasti a cazzo un proprio quello che ci toccavo non capivo niente però non vedo la chat eh non vedo i messaggi eh eh nemmeno io lo sto vedendo da un'altra parte è che brutto però siamo due stupidi sui in hangout ah no perché scusa non leggiamo eh è vero Fabio no io sto leggendo da un'altra parte eh ma non ci deve essere un modo per leggerla la chat c'è scritto chat però non vedo chiacchio ah no la vedo la vedo la vedo eh allora Anna Maria ascoltami sotto c'è scritto chat sì l'ho schiacciato e non vedo più e poi devi andare su commenti ma annagero carmene allora di quei due ah e vabbè allora no non parlo mai di cose che non siano risparmio cose inerenti al mio canale ah ecco allora è sotto zero non se la trovo in bagno e non è inverno è poste di larga sentenza infatti nobi non da da Gidia sbendiamo sì grampi infatti mi hanno detto che io non conosco l'italiano perché confondo le D con le T quindi non conosco l'italiano ragazzi allora eccola qui Anna Maria ciao Anna Maria ok ora sei nella trasmissione tutto possono vederti e sentirti ok in basso c'è scritto mic cam chat altro abbandona chat chat mi viene uno schermo tutto grigio non vedo più niente in alto in alto sta scritto chat e a destra commenti no mic cam altro abbandona no hai cliccato sto chat ok poi sta scritto sopra chat e a destra commenti sì ok adesso vedo devi cliccare commenti ma non vedo più la chat non vedo più noi non vedo niente eh lo so eh lo so o l'uno o l'altro allora cosa faccio se vuoi leggere guarda la chat per me le cose sono due lacrime mie o lacrime tue non senti ma invece con stream con restream vedevi Anna Maria sì 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 adesso li leggo però non mi vedo voi mi vedete? sì ti vedo non vedi? ok allora io non mi vedo però leggo la chat e sono contenta così se faccio la faccia faccio schifo dimmelo ok non ci preoccupi te lo diremo assolutamente sicuramente certamente è caduta niente da fare ora gli appare un rocco ma come? se l'ha andata allora Rispi mi cade la parpebra se non scrivo più è perché mi sono addormentata come sempre sono anziana non è vero perché qui ci sono anziane che restano fino alle 3 e 4 di mattina cara se ti addormenti è perché sei giovane semmai allora ariciao Anna Maria tengo male capa ma che stai a combinare? ma che ne sace allora ma se ti vediamo dice Piero il problema è che non si vede lei quindi non vedendosi lei non sa che faccia fa non sa come si riprende capisci Piero lei vorrebbe vedere sia le stesse che la chat un po' per leggere i vostri commenti così vedete vede se la prendete in giro un po' per il fatto di vedersi ovviamente vedere come sta in cam ok non mi muovo non mi vedo però non vedo nessuno vedo solamente i commenti allora fini che bello questo triniard perfetto che bellezza che bello non ti piace però per esempio la tua connessione è migliorata tantissimo e vabbè è vero Fabio sì è vero con Restream ti si sente a scatti e si sente anche uno strano rumore di sottofondo invece con StreamYard non si sente niente ti si vede benissimo a parte che faccio così vi prego qualcuno ha fatto uno screen vi prego no a parte che c'è molto nero a casa tua stai risparmiando sulla bolletta evidentemente no sono nelle catacombe allora sì è vero si sente benissimo Anna Maria vero Sara questa c'è sì però non mi vedo mi sembra strano questo fatto perché ti dovresti comunque vedere però non lo saprei come come farti fare perché io sono proprio a digiuno c'è scritto unisciti alla chat schiaccio e cado ma non lo so forse vediamo vediamo se accendi se poi sale andy che di solito andy sto guardando stai attenta a non scaccolarti dice un gorilla no no cercherò di non farlo ehi Proctolin ciao come stai tesorina Proctolin era in ospedale non so se c'è ancora allora sei caduto pure tu non mi dire che cacchio è successo eh non lo so sei caduto raga cioè io sinceramente non capisco che bello vi sento benissimo dice Paola Sala sì si sente si vede anche però hanno problemi loro alla fine non vedo niente eh non riesce a vedersi Anna Maria quindi Anna Maria preferisce restream ecco è ricaduto un tot alla volta ricade ragazzi mi sa che dobbiamo passare a restream a sto punto raga stabile sto programma e Gampi di solito è quello che viene più usato per fare ste cose eh di solito è quello che viene più usato mamma mia comunque devo allontanare la webcam perché sto troppo vicino non ci siamo proprio sembro no invece stavi tanto bene il mostro delle nevi non lo so ma non è vero ma se ti trichico ok allora rimango giù allora ragazzi vogliamo fare una cosa scusate fatemi aprire con l'altro programma vi dispiace eh no no che va bene eh dai allora ci vediamo tra 30 secondi tempo di aprire con restream dai e ci sentiamo tutti là chiudo qui e apro lì dai ciao 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 Grazie.